Il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, ed i dirigenti regionali Gaetano Pennino, Rino Gigliola, Sergio Gelardi e Gesualdo Campo sono indagati per omissione di atti d'ufficio, danneggiamento del patrimonio archeologico, storico ed artistico e di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina. L'inchiesta riguarda il Castello Svevo di Augusta, sequestrato dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Siracusa su disposizione del GIP Michele Consiglio. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore Francesco Paolo Giordano e dal sostituto Marco Di Mauro, indagato anche l'ex Presidente della Regione, Raffaele Lombardo. Secondo la Procura di Siracusa l'inerzia è durata nel tempo e per questo è indagato anche il precedente Presidente della Regione Siciliana. L'indagine è scaturita da una denuncia dell'Associazione Italia Nostra che aveva segnalato gravi danneggiamenti strutturali del Castello che, secondo la tesi dell'accusa, sarebbero dovuti esclusivamente alla mancata manutenzione e all'abbandono del monumento da parte della Regione Siciliana. Gli specialisti della sovrintendenza avrebbero più volte evidenziato, in maniera qualificata, che le lesioni esterne dell'immobile sono dovute all'omissione dei lavori necessari che costituiscono la causa del deterioramento. La denuncia, rileva la Procura di Siracusa, è stata riscontrata dagli accertamenti dei carabinieri delegati alle indagini. La Procura di Siracusa sottolinea inoltre come i mancati interventi relativi al pericolo di crollo della struttura hanno creato un grave rischio per l'incolumità pubblica. Per questo, spiega il procuratore Francesco Polo Giordano, si è reso necessario il provvedimento di sequestro anche per la sicurezza personale dei turisti, visto che potrebbe crollare da un momento all'altro. Il Castello Svevo di Augusta è stato affidato dal GIP alla custode giudiziaria del sovrintendente beni culturali di Siracusa, Rosalba Panvini.